E dopo aver condiviso con voi il bellissimo ricordo di Mary Pyle, grazie al contributo di repertorio di Fra Rinaldo Total e Fra Pasquale Cianci, che ci hanno portato proprio dentro quella che è stata la casa della terziaria francescana, una delle figlie spirituali predilette di Padre Pio. Ritorniamo in studio, in diretta, lo facciamo con una carissima amica, la dottoressa Marika Di Viesti, psicologa clinica, psicodiagnosta e neuropsicologa clinica e riabilitativa. Carissima dottoressa, già il fatto che sia riuscito a dire tutto senza sbagliarmi per me è un motivo di soddisfazione. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno e grazie a voi. Molte volte sono termini tecnici, specialistici, come giusto che sia, che non utilizziamo tutti i giorni per cui l'imprevisto era lì a portata di mano, ma siamo sicuramente convinti che con te stamattina riusciremo ad affrontare alcuni temi importanti in maniera semplice, perché con la dottoressa Di Vieste ci prenderemo del tempo stamattina per capire come affrontare meglio, in modo positivo, i problemi piccoli e grandi che ci accompagnano in un modo o nell'altro, nella quotidianità della vita, un po' di tutti quanti noi. Io personalmente, dottoressa, sono uno di quelli che cerca sempre di avere un approccio positivo nelle cose, però è anche vero che non siamo tutti uguali, ognuno di noi ha un suo vissuto, un suo percorso, le sue fragilità, oltre che le sue potenzialità, quindi ecco, ti chiedo quali sono i modi costruttivi per affrontare i problemi piccoli e grandi della nostra vita. Allora, come hai introdotto poc'anzi, le persone affrontano i problemi della vita sulla base delle proprie esperienze personali, perché ognuno ha delle esperienze nel corso della vita, quindi struttura il proprio modo per affrontare le difficoltà. A proposito di ciò, voglio raccontare una storiella che è un po' un sunto di quelli che sono i modi particolari, oppure i focus per affrontare le difficoltà della vita o come le persone le affrontano. Questa è una storiella, è la storiella della carota, dell'uovo e del caffè. Allora, c'era una ragazza che un giorno berata dai problemi della vita, andò dalla mamma e piangendo disperata, disse che non ce la faceva più, disse che non aveva più voglia di affrontare tutte queste problematiche, che le capitavano tutte a lei, insomma come li sentiamo oggi tante volte anche dai ragazzi. La mamma la fece sedere di fronte a una stufa e gli chiese di pazientare. Mise tre boccali colmi d'acqua sulla stufa e aspettarono che questi bollirono. Allora la mamma in un boccale mise una carota, in un boccale mise un uovo e in un boccale mise dei chicchi di caffè. La figlia impaziente gli chiedeva che cosa stava per succedere, cioè cosa voleva far rivedere la mamma. Dopo un po' la mamma prende la carota e chiede alla figlia cosa fosse successo e la figlia gli risponde che la carota si era sgretolata. Gli chiede di prendere l'uovo e gli chiede cosa fosse successo e la ragazza dice che l'uovo si era solidificato. Poi gli chiese di prendere i chicchi di caffè. Vedendo i chicchi di caffè la ragazza si rese conto che erano diventate una bevanda, quindi sprigionava questo aroma di caffè buonissimo, quest'acqua. La mamma gli spiegò che molte persone inizialmente sembrano dure, rigide, forti, ecco, in gergo, però poi alla prima difficoltà si sgretolano, proprio come la carota. Invece certe persone sono un po' più flessibili, un po' più morbide, poi alla prima difficoltà si induriscono, si corazzano, proprio come è successo all'uovo. E poi ci sono invece persone che sono come i chicchi di caffè che di fronte alle difficoltà della vita cercano di dare il meglio di loro perché vedono in quella un'opportunità di crescita esperienziale. Noi in psicologia le chiamiamo life skills che sono quelle abilità e competenze che ci aiutano ad affrontare i problemi della vita tipo la gestione delle emozioni, la gestione dello stress, il problem solving che è la capacità di risolvere i problemi in una maniera diciamo funzionale, però insomma poi l'argomento è tanto tanto ampio, però in breve è questo. Molto bella la storia che ci hai raccontato, dal resto avremo il tempo per sviluppare i significati che si porta dietro e che stavi già condividendo con noi. Sicuramente forte anche della tua esperienza professionale che spendi per la fondazione Centri di riabilitazione Gli Angeli di Padre Pio, non solo fondazione che è su San Giovanni Rotondo, come stiamo vedendo la regia ci offre anche il sito della fondazione, ma che opera su tutto il territorio così come appunto operi tu su tutto il territorio perché ci sono varie tra virgolette succursali, sicuramente non è il termine più adatto però per rendere l'idea. Ecco, quanto della tua esperienza professionale ti porta a pensare che la storia che ci hai raccontato trova un riscontro nella realtà? Allora, la storia che ho raccontato è un po' la realtà, perché con tutte le persone con cui io mi confronto, i miei pazienti, dai bambini agli adulti, agli adolescenti soprattutto, ecco, riscontro queste tre modalità in chiunque. Allora, in chi è un po' come la carota, cerchiamo di capire qual è il significato, qual è il modo per non sgretolarsi. In chi è come l'uovo, cerchiamo un po' di capire qual è il modo per non avere paura delle difficoltà. E chi è come il caffè, forse ha più da insegnare a noi che non noi a loro. Ah, che bello, molto molto bello. Questo perché, lo dicevamo in premessa, siamo simili ma estremamente diversi gli uni dagli altri. Gli esseri umani, ogni essere umano porta con sé un suo vissuto, un percorso delle esperienze. È compito dei professionisti, delle professioniste come te, cercare di capire anche per guidarli meglio, perché sappiamo che in Italia, come nel resto del mondo, i problemi legati alla depressione sono tanti, soprattutto probabilmente nella società frenetica in cui viviamo. Quanto è importante la fase di ascolto e quali sono i miti da sfatare? Allora, partiamo dicendo che la depressione è una patologia psichiatrica che fa parte dei disturbi dell'umore, quindi c'è questo tono dell'umore un po' basso. Oggi diciamo che è una patologia molto troppo forse diffusa e che si porta via tante vite. La depressione molto spesso viene scambiata con la tristezza. Si pensa che sia un sintomo di tristezza, quindi dai, sollevati, reagisci, esci. Sono spesso quelle frasi, diciamo, poco consone all'occasione, che forse hanno un effetto più negativo sulla persona con depressione che non positivo, perché la persona non si sente capita, quindi si chiude, si isola ancora di più. Ma la depressione è una patologia fisiologica, oltre che psicologica, è psichiatrica. Fisiologica perché? Perché ci sono dei cambiamenti proprio a livello delle strutture cerebrali e delle strutture cognitive, quindi si parla di disturbi di memoria, deficit di attenzione, concentrazione, disturbi del sonno, dell'alimentazione. Ci troviamo di fronte a delle persone che hanno dei cambiamenti importanti nella vita quotidiana, familiare, lavorativa, ma soprattutto personale. Quindi c'è questo abbassamento dell'autostima, poca sicurezza in sé, c'è questa chiusura che porta poi, diciamo, ad un declino. Molto spesso, soprattutto i miti da sfatare, ecco, sono quelli che ci portano a pensare che la depressione sia una malattia che esiste nella testa, ma dai, riprenditi, esiste solo nella tua testa, non è così, perché non è così. Si pensa che non possa colpire bambini e adolescenti, invece può colpire sia bambini che adolescenti, perché avendo dei cambiamenti a livelli delle strutture cerebrali, possono avvenire sia nel bambino che nell'adulto. E poi, un'altra cosa, non perché ultima meno importante, si pensa che le persone che cadono nella depressione siano deboli. Non è così. Le persone che possono essere colpite da depressione possono essere anche delle persone forti, solo che in alcuni momenti ci sono degli inciampi nella vita o ci sono dei cambiamenti a livello delle strutture cognitive che non ci permettono di funzionare più come funzionavamo prima. Quindi non è niente di tutto ciò, è una patologia. Ecco, prima di fermarci un attimo, perché ci fa piacere proseguire questa chiacchierata anche dopo la pubblicità. Volevo chiederti però, velocemente, quali sono un po' i tempi in cui una professionista come te riesce a gestire questi fenomeni quando non sono molto gravi? Ecco, dalla fase di ascolto, dal primo approccio fino all'accompagnamento che porti, come ci si augura, ad uscire dalla fase depressiva. Ok, allora il trattamento comincia con dei colloqui, si valuta, bene, qual è la gravità ecco della situazione. Se è necessario lo psicologo, il neuropsicologo deve intervenire con l'aiuto di un medico, uno psichiatra, un neurologo, per dare un aiuto anche farmacologico. Quindi una perfetta combo in una patologia depressiva tra terapia farmacologica e psicoterapia potrebbe essere l'ideale per affrontare, diciamo, in modo costruttivo questo tipo di patologia o perlomeno per aiutare la persona che ne soffre a migliorare e stabilizzare la propria qualità della vita. Quanto è importante il valore, il contributo delle persone che sono accanto a chi soffre di queste... È fondamentale. È fondamentale ma, come ho detto prima, non è fondamentale quella vicinanza che tende a spronare a volte in modo sbagliato, no? Solitamente, c'è la frase, siamo tutti un po' psicologi perché c'è la pacca terapeutica, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Non è così. La vicinanza certe volte si deve avere anche con il silenzio e la comprensione. Io devo aiutarti sulla base di quelli che sono i tuoi bisogni. Se la tua necessità è un abbraccio, io devo darti un abbraccio. Se la tua necessità è uno sfogo, io devo ascoltarti, devo saperti ascoltare. Dobbiamo empatizzare con l'altro, soprattutto con chi soffre di questi tipi di patologie molto particolari. Grazie dottoressa. Come detto, però, non andare via, resta con noi, restate con noi anche voi perché approfondiamo il tema, calandoci anche un po' in quella che è la società odierna per cui ritorniamo subito dopo alla pubblicità. Come promesso ci ritroviamo insieme alla dottoressa Maria Erika Di Viesti. Il tema di cui stiamo parlando è molto importante, oltre che molto attuale. La consapevolezza dell'argomento è fondamentale per poter gestire, sia che ci colpisca direttamente o indirettamente, il fenomeno della depressione. Dottoressa, viviamo in una società, lo accennavamo prima, particolarmente caotica, frenetica, dove tutto sembra così perfetto, ma poi così perfetto non è, e dove siamo sempre connessi, siamo iperconnessi e collegati con il resto del mondo, però tante volte è facile anche sentirci soli. I social network, nel caso specifico, sono parte integrante della vita quotidiana di tutti noi, soprattutto dei giovani. Leggo due dati statistici che ci sono stati preparati dalla collega Paola Russo, che ha curato questa intervista. Secondo le statistiche, circa il 92% degli adolescenti li utilizza ogni giorno e quasi l'80% dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni trascorre più di 4 ore al giorno sui social. Forse una stima così per difetto, piuttosto che per eccesso. Quali sono gli effetti cognitivi e sociali dei social network? Allora, oggi sì, come stavi dicendo, viviamo in una società iperconnessa. Noi ad oggi non riusciamo a stare più senza il telefonino. È diventato insomma un po' una nostra appendice, un prolungamento del nostro braccio. Un organo esterno. Sì, sì, è proprio tipo la RAM del computer. Allora, i social network, o i social in generale, la tecnologia, se ben usata, potrebbe essere assolutamente fruttuosa per i ragazzi, per noi. Insomma, perché è una fonte inesauribile di conoscenza, può soddisfare qualsiasi curiosità, può darci tante informazioni, può farci riconnettere con delle persone o degli amici che abbiamo lontani, dei parenti. Quindi c'è anche questo lato positivo. Solo che noi questo lato positivo tendiamo ad ometterlo molto spesso e quindi ad usare quello negativo che invece è quello che inficia la maggior parte del benessere psicologico poi della persona che ne fa utilizzo, soprattutto gli adolescenti, ma anche gli adulti oggi. Non è solo una prerogativa degli adolescenti. Ci sono delle ricerche statistiche ultimamente che hanno trovato una forte correlazione tra il benessere psicologico e l'utilizzo dei social network. Sì, ci sono dei cambiamenti sia a livello cognitivo che sociale. Allora, a livello cognitivo possiamo parlare di strutture cerebrali e ci sono dei cambiamenti che possono avvenire nella struttura dell'amigdala, che è il centro delle emozioni. È, diciamo, la parte del nostro cervello che dà una spiegazione alle emozioni che noi stiamo vivendo, alle esperienze che noi stiamo vivendo. Poi c'è la corteccia prefrontale, che è quella addetta al controllo del comportamento sociale, al controllo degli impulsi. E poi c'è il sistema ventrale, che è quello che praticamente regola il rinforzo e la motivazione. Mi ricollego al rinforzo e motivazione dal punto di vista del sociale, dell'influenza sociale, che è quella dei social network. Perché? Rinforzo motivazione. Posto una fotografia, ricevo un like, mi motivo. Quindi sono più sicuro di me. Ok? Allora, in base a questo progressivo meccanismo che si attiva nel mio cervello, io sono quasi spinto a pensare che quell'immagine che sto dando di me, perché oggi si tende ad essere in una società un po' narcisistica, dove si vuole dare un'immagine di sé sui social che molto spesso contrasta con quella reale. E' distante dalla realtà. E' molto distante dalla realtà e crea ansia poi di dover ottemperare a quelle aspettative che io creo su quei social. Quindi questo rinforzo, questa ricompensa, questo like, questa motivazione, questa autostima che aumenta, può creare in me dei meccanismi di dipendenza dal social network. Quindi a livello sociale vediamo che il social network è quella vetrina virtuale che mi rende una persona, mi fa apparire in quel modo, mi fa piacere agli altri perché sono così. Però poi il riscontro nella società, come vediamo anche nell'immagine, è assolutamente questo. Noi camminiamo per le strade, vediamo ragazzi che sono al telefonino e non parlano tra loro, vediamo persone al ristorante che cercano il wifi, non vanno a cena per parlare, ma vanno a cena per stare al telefono. Infatti c'è la nomofobia, che è la no mobile phone fobia, che è una fobia che si sta sviluppando adesso, che è proprio questa paura di rimanere sconnessi. Però questo tipo di connessione è pericolosa. La connessione che noi dovremmo avere, quella sana, è quella alla realtà, quella che ci fa sentire e non vedere, quella che ci fa essere e non apparire. Quando parlavi del fatto che tante volte siamo connessi, anche quando andiamo a cena fuori, mi veniva in mente quel simpatico avviso che è comparso all'ingresso di qualche locale, poi è diventato virale, che recitava così, qui non abbiamo il wifi, due punti a capo, parlate tra di voi. Che era ironico, fortemente ironico, ma ci restituiva quello che è un problema e che tu evidenziavi, appunto, relativo al fatto che spesso, lo stiamo vedendo anche nelle immagini, ringrazio la regia per la puntualità e la coerenza con quello che stiamo dicendo, spesso e volentieri in qualsiasi momento della giornata, in cui ci troviamo, anche se vicini poi in realtà siamo distanti. Quindi il paradosso di essere collegati, ma distanti, un po' soli. E poi ecco un altro aspetto che tu evidenziavi, che è collegato a quando il telefono, per un motivo o per un altro, lo dobbiamo tenere spento o distante, subentra l'ansia, perché ci stiamo probabilmente perdendo qualche cosa. E quest'ansia ovviamente non migliora il nostro benessere psicofisico quotidiano e quindi a lungo andare diventa sfibrante. Da questo punto di vista, ecco, come facciamo, secondo te, come potremmo gestire quest'ansia in particolare, ma più in generale questi strumenti che, anche questo lo dicevi bene, se usati con cognizione di causa, sono strumenti straordinari. Esatto. Allora, come gestire quest'ansia? Inutile dire, andrebbero tolti i telefoni, quindi arrivederci e grazie. Allora, oggi si tende a dare il telefonino molto spesso anche ai bambini, per farli stare buoni, è diventato un sedativo. Senza pensare, ecco, che invece poi quelli che sono i risvolti nel tempo sono ansiosi, ma anche di sintomi depressivi e sintomi da stress molto importanti. Mi viene in mente un libro di Paolo Crepè, Prendetevi la Luna. Il primo capitolo del suo libro si chiama proprio Il passeggino illuminato. Lui racconta che cammina per strada e vede questa luce in questo passeggino, si avvicina per capire cosa fosse, no? Un giocattolo. Invece era il telefonino che i genitori avevano dato a questo bambino per farlo stare zitto. E di lì poi, insomma, tutto il discorso di Paolo Crepè, che io poi adoro. Allora, da qui parliamo appunto dell'ansia, che viene ormai sviluppata dall'infanzia, ecco, fino all'adolescenza, a causa, ecco, di questi attrezzi che noi usiamo costantemente. I ragazzi perché sono ansiosi? Perché sono sempre connessi. Essendo sempre connesso, io tendo a vedere immagini estetiche. Ad esempio ci sono queste bellezze, queste bambole, questi fisici super scolpiti. E quindi lì mi viene l'ansia perché io magari non sono tanto sicuro di me, non ho tanta autostima. Quindi sto guardando quello che sono gli altri e non quello che sono io. Feste, concerti, viaggi. Quindi guardo quello che fanno gli altri e non quello che faccio io. Quindi c'è questo senso di infelicità, di tristezza che sottende, di poca gratificazione per quella che poi è la mia vita rispetto a quello che vedo. Però quello che vedo cambia molto il mio pensiero critico sulla realtà. Perché quello che vedo è qualcosa che mi viene venduto. E non è detto che sia reale, però il mio cervello lo percepisce come reale. Ed è questa la cosa sbagliata. I ragazzi credono che quello che vedono, oltre a quello schermo, sia sempre migliore di loro, sia sempre migliore del loro mondo. Io invito i ragazzi ad avere più sogni, a sognare un po' di più, ad avere delle ambizioni, ad essere motivati, a capire loro chi sono e qual è la loro realtà, la realtà che loro vogliono sviluppare nel tempo per loro stessi e non la realtà che si vede attraverso quella vetrina. Perché quella vetrina lede altamente l'autostima, la sicurezza in sé. C'è la chiusura, c'è l'isolamento. Perché come dicevamo prima, io poi ho paura di entrare nel mondo reale. Ho paura di farmi vedere realmente per quello che sono. Perché io magari voglio vendere qualcosa di me che non è reale perché io ti devo piacere. Quindi quell'immagine seducente che deve poi ricevere like, follower, perché adesso ci sono queste figure dell'influencer, delle fashion blogger, che vanno tanto in voga. Però io invito i ragazzi, come dicevo prima, a capire chi sono e chi vogliono essere in questo mondo fuori da quello schermo. Perché la vita reale è quella che noi sentiamo, non quella che vogliamo far vedere. Grazie, dottoressa Di Viesti. È stata una chiacchierata veramente molto bella, costruttiva, edificante e che ci restituisce quanto sia importante parlare con i ragazzi in maniera particolare perché nella loro fase di crescita si stanno strutturando come cittadini del domani. Quindi è necessario che abbiano delle guide, degli orizzonti belli, importanti da seguire e perché si rendano conto, grazie al lavoro dei professionisti come te, quanto siamo unici e ripetibili e appunto il nostro contributo nella comunità dovrebbe essere legato anche a quella originalità che poi arricchisce, quando diciamo che le differenze ci arricchiscono. Quindi dovremmo cercare di sfuggire all'omologazione che poi l'uso distorto di questi strumenti porta. Per cui grazie ancora per essere stata con noi, per aver condiviso il tuo sapere e la tua esperienza. Che dire, speriamo di ritrovarci anche in futuro perché i temi sono importanti e vale la pena non perderli di vista. Sarà un piacere per me. Grazie, grazie ancora. Noi restituiamo la linea alla regia. Ci ritroviamo subito dopo per la volata finale di Just Today.